Quattro giorni di neve, il titolo che potremmo dare alla condizione meteo che negli ultimi giorni ha interessato le Marche. Le temperature sono in rialzo, ma i fiocchi hanno continuato ad imbiancare le località marchigiane di costa e dentro terra durante la mattinata di oggi. Ad Arquata del Tronto si è accumulata una decina di centimetri di neve, ma la situazione è rimasta sotto controllo e le scuole sono aperte, così come a Tolentino e Camerino. Sono chiuse invece le scuole di San Severino, Belforte del Chienti, Caldarola, Serra Petrona, Camporotondo di Fiastrone e Cessa Palombo. Da domani 2 marzo riapriranno gli istituti scolastici di Civitanova e Macerata. Per quanto riguarda la viabilità, a seguito del divieto di circolazione dei tiri in Emilia Romagna fatti convogliare all'uscita sud di Ancona, una cinquantina di auto e mezzi sono fermi sulla corsia di marcia della carreggiata nord tra i caselli di Loreto, Porto Recanati e Ancona Sud. Le auto e gli altri autoveicoli utilizzano le altre due corsie. Finché non miglioreranno le condizioni meteo in Emilia Romagna saranno vietati ai mezzi pesanti gli ingressi in direzione nord nelle Marche. Intanto, dopo il colpo di coda della neve, sono arrivate oggi le piogge dal primo pomeriggio. Sollievo per lo scioglimento della coltre, ma non per il pericolo di Frane, che ha già interessato il tratto di strada che collega Tolentino a San Severino. Il rischio neve potrà ancora interessare, nella giornata di domani, le località ad un'altura di 1.100 metri. Rimane comunque intensa e puntuale l'attività di soccorso che le forze dell'ordine e le associazioni di volontariato stanno svolgendo sul nostro territorio.